Mamma mia ragazzi alla fine, mamma mia che strizza che mi è venuta, mamma mia Io non ho parole, è una partita cazzo che stavi dominando nel secondo tempo Perché il primo tempo, diciamo la verità, abbiamo fatto abbastanza cagare Nel secondo tempo stavano dominando la partita in maniera agevole Poi Spalletti, io non mi voglio accanire col mister Perché comunque oggi vi dico bravo che mi ha confermato l'undici che ha vinto agevolmente col Cagliari Quello che avevo detto, poi quello che speravo accadesse oggi l'ha fatto Spalletti quindi dico bravo per questo Poi mi mette Santon al posto di Caramò e ho visto proprio la squadra abbassarsi, impaurirsi E il Chievo poi ci ha creduto, ci ha creduto Anche se il gol per carità viene in maniera fortuita, una palla persa da Vesino in quel modo L'Inter stava dominando comunque la partita Però la squadra si era abbassata molto e questa cosa non mi è piaciuta Comunque, per fortuna siamo qua che parliamo di una vittoria Ci tiene in vita, molto importante per la Corsa Champions Se è vero non abbiamo guadagnato punti né su Roma né su Lazio Ma diciamo che sulla carta la nostra è la partita più difficile probabilmente Perché comunque andare a vincere a Verona non è una passeggiata di salute E si è visto dal nostro primo tempo Perché noi nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza schifo ragazzi Cioè se non fosse per Andanovic staremmo parlando probabilmente di una non vittoria dell'Inter Perché ha fatto un paratone esagerato Andanovic Poi nel secondo tempo molto meglio tutti quanti Nel primo tolto Rafinha che per me ha fatto un partitone oggi E Brozovic che si conferma veramente a livelli top in mezzo al campo davanti alla difesa Nel primo tempo tolti loro due e gli altri tutti male abbastanza Icardi non mi stava assolutamente piacendo Perisic non era incisivo come le ultimissime partite Nel secondo tempo poi dopo il gol di Cardi giustamente giustamente assegnato con la VAR Per me abbiamo dominato Cioè abbiamo dominato Caramò onestamente a me è piaciuto Non condivido chi l'ha criticato in questi minuti Perché per molti ho letto alcuni post Eh ma voi criticate Spalletti che non fa giocare Caramò ma è meglio che Andreva Io non sono assolutamente d'accordo Perché l'azione del secondo gol Quell'intesa Caramò Rafinha Non ce li hai con gli altri giocatori Caramò Rafinha triangolo per Perisic Un'azione stupenda Caramò è un giocatore tecnico ragazzi Poi può sbagliare, non sbagliare Ma insomma è l'unico che Uno dei pochi che si prende la responsabilità di puntare l'uomo saltare Poi può sbagliare o no A 19 anni A 19 anni Per me ad oggi la merita la maglia da titolare Senza dubbi Ha fatto una buona gara Secondo me Difesa si stava comportando benissimo Skriniar stava facendo un partitone Miranda molto bene Cancelo Insomma Non mi è piaciuto granché Soprattutto nel primo tempo Poi nel secondo diciamo è venuto fuori Ha fatto qualche giocata di qualità Però insomma può fare Molto meglio Cancelo E questo cambio di Santon Ripeto Non l'ho capito Ha abbassato abbastanza la squadra Secondo me Brozovic invece Ripeto molto bene E Cardi e Perisic Da quando poi Ci siamo sbloccati sullo 0-1 Hanno giocato molto bene pure loro due Ragazzi Onestamente quindi Su questa gara Non c'è molto altro da dire Se non il fatto che siamo là Siamo là Dobbiamo crederci Lottare fino all'ultimo pallone La prossima è la Juve Non ci interessa Dobbiamo andare là Per vincere Vincere contro chiunque Quattro partite Quattro finali Te la giochi alla morte Devi dare tutto in campo E poi vediamo quello che succede È inutile stare qua Piangerci addosso Eh ma La Lazio non perde punti Eh ragazzi Devi andare all'Olimpico L'ultima partita E vincere pure là È inutile Se poi Non siamo in grado Di fare queste cose È giusto andare in Champions Perché per alcuni mesi abbiamo Ci siamo addormentati Abbiamo buttato punti Veramente Contro cani e porci È giusto poi non andare in Champions Invece io ci credo Comunque mancano quattro partite Un punto per due squadre Crederci 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 Ragazzi Fatemi sapere nei commenti Sotto questo video Se che cosa ne pensate Di questa vittoria Se lo pensate Anche un po' come me Che il cambio di Sant'Ono Onestamente Non l'ho capito È impaurito un po' la squadra E soprattutto Se ci credete Alla Corsa Champions Un saluto a tutti Amici Ci sentiamo stasera Per il post Poi Juve Napoli Ciao ragazzi E sempre amola Ciao amici Ciao amici